Sermono posti per dare una degna sepoltura ai nuovi morti, oltre 150 in attesa fra casa comunale e chiesetta cimiteriale. E la soluzione prevista dalle norme vigenti in materia prevede l'estumulazione di quelle salme che sono più datate nel tempo. Una procedura che già da qualche giorno sta consentendo la sepoltura di alcune fra le salme in attesa al cimitero. Ma l'ordinanza del sindaco prevede di estumulare salme dalla parte storica del cimitero di Trapani, comprese quelle che hanno una certa valenza storica e culturale per il capoluogo. Su questo aspetto, nei giorni scorsi, sono nate alcune legittime polemiche invocando il rispetto, oltre che dei morti, nella storia della città stessa. La domanda è, si può distruggere la memoria di una città anche in presenza di salme e lapidi, alcuni risalenti alla metà del 1800, che non sono più degnate di attenzione e manutenzione dagli eredi? Su questo aspetto, stamattina, l'ingegnere Oraccia Menta, dirigente del comune, ha incontrato il professor Salvatore Accardi, storico cittadino, ed una soluzione è stata individuata e molto probabilmente sarà posta in essere. Allora, la perplessità, secondo me, non va cancellata alla memoria. La memoria storica, specialmente di alcuni personaggi che, anche se hanno dato poco alla città, rimangono come uno studio per un'araldica, per una genealogia. Io particolarmente mi sono soffermato su una lapide dei notai siracusa. Sono facezie, però ha la sua rilevanza, considerato che il notario Federico Siracusa ha rogato quasi la maggior parte di tutte le ordinanze municipali dal 1876 al 1886. consultabili nell'archivio del Stato di Trapone. Ordinanze che sicuramente sono perse, ma che tuttora permangono come testimonianza storica della città. Io propongo, in base a questa piccola diatriba che si è sollevata in città, di temporaneamente fermare, bloccare le stimolazioni di alcuni personaggi, non più di 4 o 5, in attesa che si possa trovare una soluzione per lasciare la memoria. Intanto dobbiamo ringraziare gli storici, non soltanto il professore che ho qui accanto a me, che ci stanno dando una grande mano e soprattutto ci stanno dando un'opportunità. Cioè, paradossalmente, da un punto di debolezza, da un punto di crisi, anche in termini dell'opinione pubblica, stanno venendo fuori delle belle idee, delle belle proposte. Quindi, intanto c'è da ringraziare il professore che è qui con me. Evidentemente accogliamo questa proposta perché c'è qualche tomba che merita una riflessione particolare e non c'è alcuna fretta da questo punto di vista perché sono centinaia alle stimolazioni possibili che si possono fare in questo momento. Però vogliamo andare oltre, nel senso che nella realizzazione dei nuovi loculi, nuovi padiglioni che verranno realizzati da qui a breve, pensare dei muri della memoria, un muro della memoria, con le lapidi che tireremo fuori e anche con i vesti mortali che tireremo fuori, che saranno anche a disposizione delle famiglie per chi vorrà ritumulare il defunto o presso le proprie tombe di famiglia, può essere una possibilità che può creare un'occasione di rinverdire la memoria storica della città.